Ciao ragazzi, sono Divan Gerzakar e siamo qui in diretta a casa di Abigail Tolentino qui Abigail Tolentino, saluto al pubblico, ciao e insieme a suo fratello, e il suo fratello Esikel, ciao siamo qui in diretta a casa di Abigail Tolentino insieme a chi? e adesso vi facciamo vedere una scena orribilata dove c'è Monze Monze che si toglie le sopracciglia, oh my! qualche problema? no, ci potresti far vedere come si fa gentilmente? devi togliere una alla volta e poi devi fare così e fare così e poi fai così basta! ok, avete capito ragazzi? così, così, così siamo qua, è da Ryan, Harry non mi ricordo, Fonseca ciao! ciao! da mia sorella Oh no, un gentleman, un uolo! posso già guardare il mio? posso già guardare? Monza mi chiede se può già guardare il suo? dai! ho cosa devo fare però se io non estou lasciato Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 3 o 3 na Nasa magainipa Isang iksinang Nasa magainipa Isang iksinang Abole di Tu pari Walang Iba Oh my God What's that? Rack! 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 Isang iksinang I aww Rack! Ananach Rack! 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 I love you, that will you always be mine I have this shot so often I ought to replace us not with what's the robot Let's go, let's go